Ragazzi, bentornati su questo server 2 con Warfire, un gioco che è, forse, il gioco peggiore FPS mai visto, in assoluto. No, è fatto da un bambino, credo, una scolaresca di bambini. Devo fare una cosa prima che mi trasporta sulla macchina. No, sapevo di poterlo fare. Non si può, non si può. Va bene, allora, l'idea è, come sapete, se avete visto lo scorso gameplay, se spacchiamo la porta va in rallenty. O perlomeno, se superiamo il punto dove c'è il trigger, va tutto a rallenty. Quindi, l'idea è... Attraversare la porta raso raso. No, l'idea è andarsene e girare da questa parte, cercando un'altra entrata. Perché? Però, secondo me, se ti avvicini al muro, esci dalla portiera, ti teletrasporti dall'altro lato. Ma tu stai vedendo che sta succedendo qua, che c'è tipo un... Un albero sotto... No, addio G. No. Addio per sempre. Addio, mia bella, addio. Ah. Che sta succedendo? Le antenne. Sono così corporee le antenne. Sono corporee? Pensate quanta cazzo di cura mancata c'è in questo gioco. Però quanto tempo è che non troviamo un FPS. Cosa sto prendendo? Se lo... Gata na gomma? Non credo sia così realistico. Non è simulativo. Ciao ragazzi, ce ne andiamo dopo. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Ragazzi, ormai... No, siamo entrati nel muro e si è baggato. No. No. Lo sbaglato, lo sbaglato. Sono risaliti in macchina. No, vabbè, è una cosa indegna. Allora, aspetta. Che cazzo è possibile? Forse la torre... Eh, però poi rimango bloccato. Vabbè, che tanto mi posso rificcare sempre in macchina. Possiamo fare dei tentativi. Dobbiamo cercare di entrare nel portino. Ok. Dov'è il fucile? Non lo so, si è tolto per il... Dov'è il fucile? L'hai perso nel muro. Poi vabbè, il problema è che non possiamo uccidere nessuno. Non l'avremo mai... Eh no, basta prenderlo dai nemici. Un ramo, un ramo, un ramo. C'è una pianta che sta uscendo fuori dal muraglione, hai visto? Non lo so, io... Lì, lì, in fondo. Ho visto che non posso più switchare armi, quelli sì. Ma fossero questi i problemi. No, beh, il gioco sta fatto bene. Non è che prende ente, no, come vuol... Che cos'è, un chiosco? Che cos'è? Parcheggio. Parcheggio 24 ore. Ma questo è scemo. Io veramente non ho parole. 15 euro su Steam. 15 euro. 30 nemmo a pagare. Sai che purtroppo dovremmo... Non abbiamo più modo di difenderci. Non serve a niente. Cos'è? Che cos'è? Ho un muro. Che lampeggia. Ok. E hop, siamo dentro, signori. Ecco come... Cus, d'ordine. Ciao, signori. Ah, non si muore. Avrei bisogno di... Ho usato un medico. Scusamente è niente. Dovremmo riavviare la missione e andare direttamente qua dietro. No, dai, ci resta un... Eh, ma sei senza armi. Anche loro, eh. Perché? Spara. Aspetta, una granata. Mi ha cambiato la granata. Sparagli e rubagli il non fucile. Spara che non... No, non ti fa niente, vai. Fucile. Ahah! Ahah! Ok. Ho sbagliato il gioco. Quando la sfida nel gioco non è il gioco, ma il gioco. Da dove spara? Ah, ma spara dal fucile. Ma sei bellissimo. Questa è la prima volta che una nel mondo che la vedete. No, vabbè, ma è una cosa vergognosa. Spara dal fucile che è addietro. Eh, questa è la prima volta che vedo una cosa così bella. Eh, è poesia. Per quanto mi riguarda sparano tutti dal fucile. Per quanto mi riguarda è poesia. Posso dire una cosa? 15 euro spesi bene. Sono... Hai visto? Sono veramente... Sono esterrefatto, ragazzi. Erano anni, anni, anni. Questo è il gioco definitivo. Penso di aspettare lo fili Pasqua e Natale. Questo è il gioco di merda definitivo. Però la fucile ha pompata. Molto di rispettare. No! Perché? Ma è così grosso il trigger. Ragazzi, siamo... Allora, forse è per quello. Allora dobbiamo andare di qua. Per uscire il trigger. Io credo che ci sia soltanto l'hond, non l'h off. Che, fatto da uno sviluppatore decente, sarebbe on, variabile in secondi, si spegne. Giusto? Tra l'altro, è stato così coglione lo sviluppatore che non ti fa rompere a te la porta. Cioè, la rompono con gli RPG, quindi non sei neanche tu che l'attivi, questo trigger. Ragazzi, siamo fottuti. Dobbiamo riavviar... Dobbiamo riavviare il gioco. Tadam! Cosa è l'acqua? Fiove. Stiamo sparando? Ah, cliquer area 3, vedi? Allora, l'idea è di pulirsi tutte quante le aree. Andare a spaccare il coso. Quale coso? Il cancello. Trigger. C'è una console. C'è una console. Guarda per quante coglioni Deve aver lasciato pure a chi vuoi Le variabili Eh si C'era proprio la cosa Che hai premuto? F2 Ma che è? Ma che cos'è? F2 non è una Cosa fa F2? Propone situazioni Cioè questo si è salvato Delle zone del gioco Che lui può richiamare E non si è tolto Ma perché? No senti carica una tua missione Fai così Con F6 voli Allora ragazzi Siamo dentro lo sviluppo del gioco F8 non ho preso le fasce Guarda Guarda Praticamente Se noi sparassimo al lato No aspetta Le box sono queste Sono fuori dal corpo anche Tu dici? Che ci sono queste E che cazzo è quell'aria? In testa Non lo prendi Ah no Fa sì All'ultimo Credo che sia L'aria Di Del nemico Scusa Non divento Ah forse le collisioni? Sono diventato Imbattibile Raga Non comprate Questo gioco Non è cattiva pubblicità E che non l'hanno mai finito Anzi L'hanno appena cominciato Io penso che Puoi stare in una paura Ma vabbè Ma Veramente La prima volta È la prima Abbiamo visto un sacco Di prodotti approssimativi Brutti Poco ispirati Fatti senza cuore Ma mai 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 nella vita Questo Quindi se io ripriamo F6 F5 F4 F3 Fly mod on Fly mod no click Che sta succedendo? Stai cadendo? Stai cadendo rovinosamente al suolo Oh mio Eh? Cos'è quel piede? Mi dice l'acqua Mi sono ammazzata Che quando ti ammazzi Ti fa ricominciare Dall'ultimo checkpoint Che prende E se il checkpoint Lo prende in aria Ragazzi è ingiocabile Cioè non si può giocare Lo sposo con la Fly mod no clip Ok no clip Puoi entrare nelle cose Ecco infatti No clip lo usavamo Su blood 2 Per divertire Get on the train Ok Si è attirato il trigger Del tren Togli il volo Così c'è il treno Insegui il treno Che bello è che il trigger Ce l'ha solo uno o due Di questi qua E' bello Che bello Parti dopo il treno Mi è fratelli Mi è fratelli Sei sopra? Ciao belli Sei sopra? Ma perché fa? Il claccio Il treno c'è il claccio Pepe 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 Stiamo finendo Siamo sicuri che stiamo Ciao belli E' bello che inizieremo un altro Con ramen Con ramen Però questo è il final chat Ce lo vogliamo scorderare Però dai il final chapter facciamocelo senza rallenty Ma ora secondo te perchè è andata inversa questo Siamo in TPS Ma io non sono stato eh Credo che il final chapter ci voglia in TPS Però facciamo la velocità normale Che è una rottura di cazzo Io penso che ci vediamo al prossimo gameplay Alla prossima ragazzi Guarda sono anche notato Male Non ci un pesce Due pesce Guarda i pesci che escono Non così Prossimo gameplay